GIOVEDÌ DELLA SESTA SETTIMANA DI PASQUA DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, Un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro, Che cos'è questo che ci dice, Un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? E io me ne vado al padre. Dicevano perciò, Che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro, State indagando tra voi perché ho detto, Un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità, in verità io vi dico, Voi piangerete e gemerete, Ma il mondo si rallegrerà, Voi sarete nella tristezza, Ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi, Maria e Picoco Un poco e non mi vedrete più, Un poco ancora e mi vedrete? Non si può comprendere nulla del Vangelo di oggi se dimentichiamo che ci troviamo al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, che, per intenderci, è il punto focale di tutto il racconto della passione di Gesù. Le ore, qui raccontate, sono le poche che separano Gesù dalla sua fine. Il non vederlo è riferito alla sua morte e sepoltura. Il rivederlo è riferito alla sua risurrezione. Ma questo i discepoli, giustamente, non riescono a capirlo. Esattamente come è difficile per ciascuno di noi capire qual è il senso del buio che tante volte siamo costretti a vivere. Nel cuore di ogni nostro venerdì santo regna la confusione, la paura, lo smarrimento. Quando si soffre, quando si è in croce, non si comprende mai il perché di tutto ciò. Come può Dio permetterlo? E dove, in realtà, ci sta conducendo? Sono domande che, quando le si pronuncia nel cuore di una sofferenza, sono destinate a rimanere senza risposta. È così che capita anche a Gesù. Ma egli ci insegna che, in simili ore, non bisogna rimanere ostaggio dei ragionamenti, ma bisogna imparare ad affidarsi. State indagando tra voi perché ho detto, un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità, in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Il mondo a cui si riferisce Gesù è il mondo basato sull'odio, il male e l'egoismo. C'è un momento in cui la croce sembra la vittoria schiacciante del male, ma questa gioia è destinata a finire. C'è infatti qualcosa che nessuno sa, e cioè l'imprevisto della risurrezione. Credo che questa fede semplice e rocciosa che ha animato i pastorelli di Fatima, di cui oggi ricorre l'anniversario della prima apparizione, avevano tutto contro, e due di loro morirono quasi subito. Eppure avevano ragione a sperare e a fidarsi di Maria. A noi, molto spesso, manca questa fiducia, questo affidamento, al di là di ogni perché a cui non riusciamo a rispondere.